Benvenuti a tutti i Fortniteers, benvenuti e bentrovati su Lotto eccoci in questo video per andare a vedere il negozio oggetti di Gavage 31 luglio 2024, prima però mettete un bel vi piace, iscrivetevi al canale e partiamo subito con il bundle Luke su Dagobah eccolo qua con l'imbragatura, sì e con l'imbragatura no torso decorativo Yoda, carinissimo e poi il bastone di Yoda poi abbiamo il bundle Lando Carissian eccolo qua modellino di Cloud City come torso decorativo e piccone come vibro ascia ok andiamo avanti con il soldato AVR, eccolo qua con la copertura corazza AVR poi abbiamo il C-3PO smontato come dorso decorativo il Moot Mini Adds le tracce gem, il bundle di estra, il bundle di Cantropo, Deadpool, bundle, Deadpool, Wolverine, bundle, Deadpool, World, Wolverine, remix, Deadpool, bundle, tre sette, Deadpool, Deadpool il bundle perati dei caraibi passenger things bundle azucco e catara, il bundle, pacchetto azucco, pacchetto catara, pacchetto top bay phone, il turbine d'aria bundle fotogramma bundle fotogramma bundle attrezzatore fotogramma stile distintivo il bundle vai oltre ogni limite con le personaggi personalizzabili un po' nello stile possiamo cambiare il colore della maglia personalizzarlo un po' a nostro piacimento questo questo vale per tutte le skin prezzo di colori vortice vario pinto lampo di sole nascente caos di colori poi abbiamo il piccone il dorso decorativo tinta spirale eccola qua personalizzata e poi la copertura visso di cintura questa non è personalizzabile acquistabile anche il singolo bundle 26 singolo 800 versione maschile pacchetto esploratori delle isole quindi la personalizzazione è un minore possiamo scegliere lo stile della tuta e basta diciamo 2500 vbac poi abbiamo il bundle la mia editrice rossa il bundle ccfn della stagione 1,2,3 del campionato globale il bundle peregrin il pacchetto in carichi scala livelli una volta sincobata mantide prodigiosa scaglia bastiale trappola di venere sinfonica settoide le tracce gem in metallica il burger faro di loki la crew di fortnet domani cambia pass ve le maledete i soliti pacchetti che abbiamo tutti i giorni oltre al pacchetto salva il mondo non disponibile per nintendo switch ma solo su tutte le altre piattaforme il negozio oggetti di oggi termina qui mi raccomando come sempre iscrivetevi al canale mettete un bel like e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti